1, 1, seconda Giulio ho pure detto che l'accordo economico non era importante cioè alla fine mi rendo conto che è la prima cosa che pubblico se dovessi mai pubblicarla per cui quello è l'ultimo dei problemi poi uno si fa conoscere no ma c'hai ragione figurati ho capito ma almeno dimmi quello che non capisco è perché mi devi dare il pacco dimmi stasera gioco scusate allora dimmi se hai ragione no si infatti dimmi quanto ci sei ci sono dimmi quanto ci sei veramente ci sono no si c'ha ragione figurati no 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 Sì